E Bitcoin inizia un nuovo ciclo mensile, quasi sicuramente nella data precisa addirittura di chiusura del precedente e sancisce quello che un po' era nel live, ormai ce l'aspettavamo e da qualche video che ve ne parlo ragazzi cioè è iniziato un nuovo ciclo annuale sul mercato del criptovalute e dopo un po' di tempo, dopo aver visto quello che era diciamo tre mesi di stand by, tre mesi di fase di bassista ritorna un po' il sereno, siamo arrivati a livelli di prezzo proprio oggi che sono considerevoli nella zona cosiddetta di trappola, quello che vi parlavo in un precedente video andiamo a fare oggi il punto della situazione dove siamo da un punto di vista ciclico sui mercati cripto, Bitcoin, quali indicazioni sta dando di analisi tecnica, analisi ciclica andiamo a vedere quello che è successo in questa settimana andiamo a vedere anche ETH un po' sottoperformante rispetto al resto delle altre criptovalute soprattutto Ada che ha fatto il boom boom ragazzi ma l'avevamo messa nel video dove vi parlavo delle top 5 per le prossime settimane Ada era una di quelle insieme all'una che aveva già fatto veramente i numeri Ada ne ha fatti e sta continuando a fare e poi vedremo BNB con un trend lineare rialzista quasi pilotato lo andremo a vedere anche oggi ragazzi e l'ultimo tocco di classe sulla dominanza e addirittura anche un grafico alla fine del video di spread tra S&P 500 e Bitcoin per vedere da un punto di vista di relazione tra il più grande mercato della borsa mondiale ovviamente l'S&P 500 e il R invece Bitcoin va bene ragazzi allora come sempre prima di andare avanti vi chiedo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto poi è arrivato anche il mio canale Instagram ragazzi che ormai conoscete moltissimi si sono iscritti a trendingon.it c'è stato uno spammer che in questi giorni mi ha clonato un canale ragazzi mi clonano anche Instagram vabbè la vedo un pochettino un'esagerazione diciamo comunque vabbè ragazzi attenzione mi ricordo che io non vi proporrò mai nella mia vita di comprare cose attraverso chat private quindi ricordatevi questa cosa se vi arriva un messaggio a nome finto di Mauro Caini o trendingon sono degli scammer sono soggetti che clonano i canali ragazzi per vendervi delle truffe quindi ricordatevi che io personalmente non vi contatterò mai a livello di messaggi per vendervi qualcosa o farvi comprare una criptovaluta ragazzi mi raccomando queste cose va bene sbagliare sul mercato va bene fare trading e prendere le batoste va bene prendere gli errori va bene tentare rischiare con gli investimenti non va bene essere truffati da gentaglia di questo tipo che tra l'altro sono anche italiani ragazzi perché abbiamo raccolto una serie di schermate proprio per denuncia e tutto il resto quindi mi raccomando ragazzi non vi fate fregare da questa gentaglia va bene ok andiamo avanti ed eccolo qui il super 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 bitcoin quello che è successo facciamo un po' il punto della situazione per quanto riguarda la questione attuale dell'analisi tecnica analisi ciclica su bitcoin e vediamo anche un po' quello che sta succedendo allora ragazzi il ciclo annuale possiamo indicarlo come concluso ormai nella giornata del 20 luglio del 2021 secondo me è stato chiuso in questo punto il ciclo annuale di bitcoin e da qui siamo in una nuova fase ormai lo possiamo dare quasi per certo tecnicamente da un punto di vista di teoria ciclica e bla 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 servirebbe in realtà un trimestrale rialzista ragazzi però come si fa a star dentro con quei tempi su mercati così veloci come quelli delle crypto quindi ok si ci può sbagliare sicuramente ragazzi però al momento noi abbiamo bisogno di punti fissi e diciamo questa cosa poi se dovessimo sbagliare insomma rimoduliamo la questione poi in corso d'opera quindi al momento sembra che il ciclo annuale sia stato chiuso il 20 luglio da qui in poi è iniziato un nuovo ciclo mensile eravamo nel presente mensile infatti già di agosto che è stato molto rialzista vi faccio vedere anche la scusate ragazzi non so che cosa sia successo ok ci siamo ragazzi scusate me che fa le pizze come sempre con 2000 impostazioni nella touch bar che io non riesco a usare benissimo allora range di prezzo vi faccio vedere l'incremento l'incremento che è stato notevole di questo ciclo mensile che è arrivato a più 62% addirittura dai minimi del ciclo annuale poi ha chiuso nella giornata del 19 intorno a un più 49% di profitto quindi un incremento notevole ragazzi più del quasi 50% quindi un incremento di enorme proporzione rispetto ad un ciclo mensile classico questo indica proprio che con tantissima probabilità è iniziato appunto il ciclo annuale che ci aspettavamo ora la questione legata al mensile è iniziato il nuovo mensile il 19 di agosto allora mi spaventa sempre un po' vedere dei cicli che sono veramente così dipinti un po' troppo facile questa è un po' il mio dubbio ragazzi perché vi faccio anche capire una questione è vero che insomma la struttura ciclica di 30 giorni così divisa praticamente un ciclo vedete a metà che è fatto così e poi l'altra metà che è fatto così chiude con dei minimi inferiori ai precedenti qui praticamente fa un minimo a 44.000 43.992 prezzi bitfinex chiude riparte a bomba arriva a toccare i 50 resistenza dei 50k allora ciclo mensile chiuso sì però è veramente dipinto ragazzi sembra quasi insomma una figura per studiare l'analisi ciclica va bene non va bene sì va benissimo perché sono passati 30 giorni ogni tanto perché il mercato può fare anche cose semplici non è detto che debba diciamo a forza andare a costruire poi cose che sono magari compleste e insomma e piene di manipolazioni ogni tanto insomma ci sta anche la semplicità di insomma di questo di questo video però di questo scusate di quest'andamento di mercato però non so ragazzi ok cosa potrebbe succedere quale potrebbe essere eccoci siamo ragazzi scusate purtroppo problemi sempre con il mac allora cosa potrebbe succedere da un punto di vista di ciclicità allora potremmo avere un allungamento a 40 45 giorni quindi un po' più lungo del normale con un mese da tendenzialmente con un mensile da da 30 è una struttura ternaria che andrebbe poi a chiudere effettivamente tra pochissimo cioè fatta in questo modo qui allora questo potrebbe essere anche tutto sommato una struttura che andrei a valutare cosa ho fatto io personalmente perché poi alla fine bisogna prendere posizione in questi ambiti io ho considerato la chiusura del ciclo mensile qui poi se sta facendo un terzo movimento che andrà a chiudere il mensile purtroppo non è dato saperlo in questo momento e ce ne accorgeremo più in là col tempo ma in questo caso non ha alcun rilievo la questione ragazzi perché semplicemente siamo già su un trend assolutamente long e rilanzista tant'è vero che io sono entrato long proprio con la mia posizione di breve periodo su prime xbt ragazzi cioè il broker che io utilizzo per fare questo tipo di operatività mensile che stiamo gestendo con l'academy vi faccio vedere l'operazione ok ragazzi allora queste erano tutte le operazioni che avevo inserito sul broker prime xbt tra le altre cose come sempre ragazzi vi lascio il link in descrizione con un super bonus relativo al FIM al 25% se vi scrivete al link in descrizione mi date una mano perché mi piace molto utilizzare prime per una serie di questioni legate alle operazioni di breve la leva la facilità il fatto che il funding è solo alla scadenza giornaliera non ogni 8 ore il fatto che in questo caso io sto utilizzando principalmente bitcoin per fare operazioni su bitcoin quindi ragazzi anche se magari non sono posizionato con tutto il capitale non ho usdt quindi non sto utilizzando stable sto utilizzando bitcoin quindi comunque anche quello che guadagno praticamente sale insieme alla valorizzazione di bitcoin quindi prime assolutamente come broker in questo caso per questo tipo di operatività mi piace veramente tanto ormai lo uso da aprile del 2020 ragazzi in maniera praticamente continua per fare questo tipo di operatività allora quello che vedete sono le mie tre operazioni perché ero già entrato avevo tentato dei buy the dip qui che però non sono andati perché il mercato mi ha lisciato questo buy the dip a 43 e 4 e poi l'altro era veramente molto basso e quindi il buy price in questo caso per l'operazione di beve è 45 e 4 questo perché proprio perché ragazzi da questo punto di vista era assolutamente consono su questo tipo di minimo andare long quindi l'analisi ciclica ce lo diceva ce lo indicava in maniera abbastanza semplice poi ragazzi avevamo anche delle altre indicazioni che stiamo utilizzando in academy indicazioni che mi portano a dire che il livello di 50 51k potrebbe essere stato il massimo del mese di agosto ve lo dico qui perché in academy già lo sappiamo questa cosa ho fatto un video nel suo mese l'estensione di questo movimento potrebbe andare a 52 quindi o l'ha fatto il massimo oppure siamo lì ragazzi ok tant'è vero che sto decidendo se andare a chiudere la posizione di breve periodo in questo caso per riaprirla poi a luglio ma è una posizione di trading quindi sto parlando della posizione di trading non la questione legata al lungo periodo o medio periodo medio periodo è lungo ragazzi perché siamo sul nuovo annuale siamo sul nuovo ciclo mensile dove sono i livelli di resistenza in questo momento che poi è la domanda che ci dobbiamo fare ve la faccio vedere in maniera abbastanza chiara ve l'ho già accennato comunque 51 sicuramente è un'area di resistenza mi esce fuori da una serie di calcoli che utilizzo con dei miei indicatori di volatilità comunque questo ragazzi che è appena fatto vedete che poi coincide con la price action della precedente fase sopra i 51 e 8 53 sopra questo livello qui il mercato rientra in pieno nella fascia di consolidamento che aveva dato il via poi alla fase di ribasso vediamo se riesco ecco questa zona qui ragazzi ok quindi finora questo movimento può essere ancora definito purtroppo un pullback quindi non siamo fuori dalla zona rischio totale che avevamo visto nel mio video precedente ragazzi dove vi facevo vedere che potevamo andare a fare il rimbalzo cosiddetto del gatto morto ve lo faccio capire da questa zona abbiamo 1, 2, 3, 4, 5 questa sarebbe la sesta settimana di fila verde per quanto riguarda questo mercato quindi potremmo in effetti avere un po' di rischiosità in questa fase allora che il mercato andasse su questa linea rossa e questa zona iniziasse a stentare è normale perché è un pullback ragazzi però proprio per questa situazione qui abbiamo ancora la questione in sospeso del cosiddetto ABC ok questo ancora non è una cosa che possiamo eliminare quindi siamo long siamo long assolutamente l'attesa era quella di un nuovo ciclo annuale quindi da un certo punto di vista possiamo aspettarci una nuova massima anche di bitcoin ragazzi l'ho detto migliaia di volte però neanche andare poi con i piedi insomma così di piombo così sicuri perché ancora non siamo fuori totalmente la zona pericolo per molestando che io non mi sognerei minimamente insomma ragazzi di andare a fare uno short bitcoin in questo momento ci mancherebbe anche perché tutti i miei indicatori anche i trading system che utilizziamo in academy per la copertura per lo short di copertura sono usciti a 30 e passa mila ragazzi quindi sono tutti long c'è un full long totale su old la parte di medio stenta per una serie di questioni legate a uno dei miei sistemi ma insomma non vi tedio con queste cose perché sono un po' tecniche quindi diciamo non ha senso però in questo momento la fase dei mercati cripto resta positiva al di là della questione del ciclo mensile se è stato chiuso il 19 come probabilmente è stato oppure deve andare a fare un'altra gambettina e poi ripartire ma non c'è nessuna inversione di trend neanche nel breve tutto è long ragazzi diretta assolutamente long scoglio su bitcoin 51 primo livello 52 è qualcosa secondo livello sopra 53 si rientra nell'area di congestione che può portare ai massimi storici con grande tranquillità andiamo a vedere velocemente Ethereum poi vi faccio vedere l'ultimo grafico che invece ci serve per capire se effettivamente la probabilità di fare nuovi massimi può essere tenuta in considerazione con una buona diciamo ecco probabilità ecco diciamo così ragazzi ok quindi andiamo velocemente a vedere TH altrimenti questi video video vengono veramente infiniti ragazzi intanto metto gli occhiali che non vedo più niente allora ragazzi vedete TH la questione legata ad TH è andato a confluire nella struttura di scadenza del ciclo mensile alla perfezione ne abbiamo parlato ragazzi questo mese insomma diciamo abbiamo fatto i botti perché abbiamo preso praticamente come un orologio svizzero i minimi di ripartenza le chiusure cicliche insomma ogni tanto capita ogni tanto capita ragazzi quando si fanno delle ottime analisi ogni tanto capita anche di essere veramente il mago silvan ok può succedere ragazzi non è la consuetudine però quando si fa un buon lavoro si ci sta dentro sempre poi ogni tanto capita che anche il mercato ci ricompensa con una perfezione come quella che abbiamo avuto questo mese veramente allora come vedete questa era l'aria che avevo indicato di buy di TH insomma anche qui i famosi 3000 dollari hanno dato il seguito a questo rialzo il 10% ma ETH è sul livello di esistenza di 3 e 4 che non ha ancora sfondato però se rompe questo livello ragazzi corrisponde ai 53 di bitcoin quindi in realtà è bitcoin che si sta livellando ETH non è che ETH abbia avuto una perdita di forza rispetto a bitcoin che era stato troppo forte precedentemente quindi se rientra anche ETH anche da qui possiamo avere un primo segnale che insomma ci fa tirare un sospiro di sollievo in questa area qui è importante che ci arrivi in questa area qui ragazzi ok anche se poi va a respirare guardate che cosa sta facendo Binance comunque teniamolo anche in considerazione questi tipi di criptovalute che sono anche estremamente rilevanti perché sono comunque Binance è una delle cripto più importanti del mercato la Binance Coin è un utility token comunque in linea di massima insomma si può utilizzare guardate dov'è anche lui sopra i 500 e rientra in questa fascia che è la stessa identica di bitcoin come se fossero 53.000 anche bitcoin per fare poi il cosiddetto tentativo di breccare i massimi bene allora ci siamo andiamo a vedere a questo punto quello che è il grafico che vi avevo accennato prima andiamo a vedere Dominance soprattutto lo spread con SP500 perché è lo spread con SP500 che ci dà una grandissima direzionalità con quello che potrebbe essere la fase di bitcoin per i prossimi mesi allora vi faccio vedere questo che è la Dominance ragazzi poi lo spread in realtà è molto simile anche alla Dominance per certi versi ok in termini di indicazioni cicliche allora questa è la Dominance bitcoin vi l'avevo già accennato annuale ribassista dal 31 di agosto 2020 sembrerebbe ancora in fase di metà diciamo quindi dovrebbe andare a concludersi verso fine anno questo significa tecnicamente che se l'annuale della Dominance va a fare un minimo inferiore cioè qui questo tragitto che sono grafici settimanali questi spinge ancora la questione legata alle altcoin quindi mini altseason non potente come la precedente ma c'è probabilmente settoriale probabilmente rivolta soprattutto su le top 10 che dovrebbero rubare tantissima strada bitcoin in questa fase spingere magari con un minimo sotto il i30 37 anche se non addirittura sotto il minimo storico della Dominance che è sotto 35 quindi questo grafico indica che il tentativo di avere una nuova altisono potrebbe indicarci che diciamo la fase di alzista delle cripto potrebbe continuare la stessa cosa l'abbiamo dallo spread con sp500 btc guardate ragazzi la struttura di questo praticamente è il trend di sp500 visto in bitcoin ecco sarebbe così quindi è chiaro che se vado a comprarmi l'sp500 utilizzando i bitcoin c'è un trend sempre discendente perché bitcoin sale sempre di più di s&p e quindi questo ci ci dà anche una struttura di forza relativa guardate le onde le tre onde chiarissime che sta facendo questo tipo di di trend ragazzi e dovrebbe andare a concludersi anche questo tra dopo fine anno ragazzi quindi dopo la fine dell'anno questo indicherebbe intanto un reprise di questa struttura discendente che indicherebbe che siamo solo all'inizio di una nuova fase di bull per i mercati cripto è un po' diciamo troppo veloce quindi probabilmente assisteremo a una fase di trading range questo è possibile e poi dovremmo andare a concludere il tutto con un nuovo minimo perché anche questo è un ciclo ovviamente ribassista guardate tutti sono questo è il minimo di partenza del super ciclo però gli altri sono tutti al ribasso avendo rotto diciamo questo minimo di partenza qui dovremmo scendere al di sotto dei precedenti anche perché vedete anche gli ai sono tutti al ribasso questo ci indicherebbe che ancora una volta in termini di forza relativa è possibile che i mercati delle cripto sovra performino i mercati hold ancora per qualche mese ragazzi poi si vedrà bene allora abbiamo detto tutto abbiamo visto un po' quello che sta succedendo e voi cosa state facendo vi ho fatto vedere la mia operazione su premix bt di nuovo long stiamo raddoppiando per l'ennesima volta quel capitale ragazzi quello è un capitale di 0.2 che sto riportando 0.4 io poi lo a 0 e riparto da capo quindi sto facendo vari raddoppi di quel capitale utilizzando la leva anche per spiegare poi a livello con i miei corsi di trading per esempio come si fanno queste cose come si utilizza la leva io uso pochissima leva ragazzi ok insomma molto di meno dei miei allievi che ne usano veramente molto di più va bene io sono prudenziale però va bene ragazzi allora fatemi sapere cosa state facendo voi è una buona fase delle cripto ma siamo arrivati agli scogli ve l'ho fatti vedere sia su bitcoin su ethereum che binance abbiamo degli scogli i primi rilevanti questa settimana settimana importante continuiamo a starci sopra se le questioni cambiano entro dieci giorni iniziamo a vedere qualcosina di strano e poi prenderemo ovviamente le nostre decisioni fatemi sapere cosa avete fatto voi long di breve long di medio long 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 ciao a tutti ragazzi alla prossima